La giornata è un pomeriggio particolare perché c'è stata una nuova scossa di terremoto, i terramani, alcuni terramani sono anche usciti per strada, preoccupati. Sì, sono usciti per strada e purtroppo alcuni hanno già pensato di riaprire la Casa al Mare anticipatamente. Questo, come dire, è un déjà vu, un già visto, dico purtroppo. Siamo arrivati a quasi, abbiamo superato, stiamo avvicinando ai 5.000 sfollati, le 1.500 ordinanze di sgombero. Abbiamo cittadini che vogliono rientrare nelle proprie case, dobbiamo ricostruire un patrimonio pubblico, dobbiamo ricostruire un patrimonio ATER che non c'è più. Adesso bisogna chiedere al governo, alla regione, di snellire la burocrazia. Meno burocrazia, controlli, perché noi sindaci siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, maggiori controlli sicuramente, perché, voglio dire, poi le cose negative sono in agguato, però bisogna velocizzare, bisogna snellire le procedure per far partire subito la ricostruzione privata, per far poi magari partire anche quella pubblica, che è importante, ma in questo momento è meno importante della ricostruzione privata. Quella privata è fondamentale perché i cittadini vogliono rientrare nelle proprie case e dobbiamo dare loro la possibilità di sicurare. E poi sulle scuole. Sicuramente questa scossa, meno male che le scuole sono chiuse, perché oggi questa scossa avrebbe riaperto nuovamente il tema della sicurezza nelle scuole. Abbiamo saputo che dobbiamo aspettare un piano pluriennale di investimenti da parte del governo. Io ritengo che questo non sia accettabile. Le risorse adesso vanno messe su questo territorio, su queste regioni. Anche alla luce di quello che è accaduto oggi. Le scuole, i cittadini, le mamme ci chiedono maggiore sicurezza, noi glielo dobbiamo dare. Altrimenti ci ritroveremo a settembre che riapriremo le scuole, così come le abbiamo lasciate adesso, tranne qualcuna che verrà sistemata. E questo non è possibile.